benvenuti ragazzi in questo nostro nuovo video siamo in gira gira camper io sono alessandro uno dei consulenti vendita oggi vi presento l'arca p745 glg in una versione un po particolare gira gira non si ferma mai per due motivi in particolar modo quest'oggi il primo perché questo è un veicolo destinato al mercato estero colgo l'occasione di ringraziare i nostri clienti che ci conoscono e si sono fidati a noi oramai da 18 anni quindi hanno comprato diversi veicoli anche da me quindi grazie mille a marcello e a monica in secondo luogo perché questo è un p745 glg non convenzionale lo scopriremo entrandoci dopo facciamo subito la solita panoramica esterna per visionare veicolo anzitutto balza all'occhio la cabina color grigio campo volo questo è un veicolo che è stato ordinato nel 2021 quando c'era ancora la possibilità di scegliere il motore da 160 cavalli così come configurato questo mezzo oggi non è più in gamma come sapete le varianti sono 140 o 180 l'altra caratteristica come potete vedere questo mezzo ha i cerchi in lega di una forma differente rispetto a quella che siamo abituati a vedere perché questi cerchi vengono abbinati o al cambio automatico o al telaio 44 quintali heavy in questo caso parliamo di un telaio 44 quintali heavy l'adozione di questo telaio ha permesso di avere come optional anche il serbatoio del gasolio da 90 litri vi ricordo che per questa stagione commerciale il 90 litri è abbinabile solamente al telaio 44 quintali che è abbinabile solamente al motore 180 cavalli quindi ci sono queste tre incognite o incastri per poter ottenere tutto quanto completo classico veicolo con pareti in alluminio tetto in vetro resina lo vediamo già allestito perché appunto lo dobbiamo sdoganare a breve come potete vedere il cliente ha richiesto una veranda fiamma f45 da 4 metri e mezzo colore titanium per abbinarlo alle pareti una striscia led che vi ho già acceso in modo tale da farvi vedere come verrebbe anche l'illuminazione purtroppo non è molto buio anche se è una giornata uggiosa però ci possiamo già rendere conto di quanto sia bella anche solo visivamente questa luce esterna sportellone che dà l'accesso al doppio pavimento porta d'ingresso a 60 centimetri le classiche predisposizioni per quanto riguarda l'antenna digitale satellitare 12 volt e 220 volt qua così troviamo l'attacco del gas esterno e altra caratteristica che ha voluto il cliente sono le safe door di colore nero quindi molto belle vanno richiamare le serrature il gavone lo vediamo dopo perché anche qui nascondiamo qualche cosa di nuovo che di solito non viene mai richiesto parete posteriore sempre molto bella molto pulita possiamo notare nella parte superiore il doppio occhio della retrocamera perché il cliente ha voluto una retrocamera che vede essere sia nella parte vicina paraurti sia una zona più lontana e i sensori di parcheggio quindi molto utili in abbinata la retrocamera davvero non vi fanno sbagliare manovra le luci posteriori vi ricordo che sono luci dinamiche quindi le frecce sono quelle belle che svipano portelloni di uguali dimensioni da ambe due lati carico dell'acqua vi ricordo che i serbatoi sono nel doppio pavimento di questo veicolo 145 litri di capacità dell'acqua potabile scarico del combi anche qui troviamo una sorpresa perché il cliente ha richiesto un combi 6000 watt a gas più elettrico quindi un doppio funzionamento che vi mostro dopo all'interno cassetta del vc attacco della 220 volt vanno delle bombole due bombole da 10 chili e non so se vi è già caduto l'occhio guardate un po c'è una marmitta di scarico sì perché il cliente ha voluto anche l'adozione l'installazione di un webasto 4000 watt questo qui è sempre il discorso del doppio pavimento passante fino alla parte opposta come dicevamo dove troviamo anzitutto un'illuminazione molto comoda e i classici tre scarichi dei serbatoi quindi il concetto che essendo all'interno non ghiacceranno mai ovviamente oscuranti plissettati in cabina che sono la dotazione standard per quest'anno del veicolo sia sul laterale che sul frontale parte anteriore sempre molto bella contraddistinta dalla scritta power come possiamo vedere che appunto identifica il discorso del 160 cavalli altro dettaglio dall'esterno che dobbiamo evidenziare è che il cliente ha voluto anche il safety pack di fiat quindi dietro lo specchietto possiamo vedere quella telecamera quei radar che fanno da assistente alla guida sia per il mantenimento della carreggiata sia per la frenata d'assistenza c'è un sensore pioggia dei terzi cristalli e abbiamo anche il cruise control adattivo quindi quello che mantiene costantemente la distanza col veicolo che ci precede ulteriore richiesta del cliente è stata quella di avere l'adozione dei fari a led quindi molto belli i fari diurni direi di iscrivervi al canale se non avete ancora fatto quindi come vedete stiamo continuando ad aggiungere video ai nostri canali di presentazione di tutti i veicoli che ci arrivano se siete interessati a questo mondo appunto questo il canale giusto da seguire perché gira gira è un'azienda storica del settore quindi quest'anno abbiamo festeggiato i 40 anni di attività abbiamo tanti brand tanti marchi e tante novità da farvi vedere andiamo su che le guardiamo insieme porta cellula da 60 centimetri con finestra che non è apribile ma è comunque oscurabile pattumiera sulla porta d'ingresso e la zanzariera classica classico di arca è il concetto di avere nel doppio pavimento anche la possibilità di stivare degli oggetti che vogliamo sia nella parte frontale dei gradini sia in un'ulteriore botola dietro andiamo su in questa giornata uggiosa ho deciso di stare all'interno bello caldo quindi non solo acceso vebasto ma ho acceso anche il combi quindi c'è una temperatura ideale quindi direi chiudiamo la porta ci spogliamo e vediamo subito le particolarità di questo veicolo ragazzi cosa c'è di diverso vediamo se siete attenti guardate guardate bene guardate sopra di me manca il letto basculante quindi un p745 glg non convenzionale perché a richiesta del cliente possiamo ordinare il veicolo con o senza il letto basculante in questo caso i clienti che l'hanno acquistato hanno sono una coppia quindi non avendo figli possono tranquillamente non usufruire di un letto basculante ma andare a adottare un maxi oblo da 90x70 quindi dimensioni super apribile con oscurante zanzariera e una fila di pensili decisamente più generosa rispetto a quella che si trova sui letti basculanti guardate quanto spazio c'è poi molto molto bello il dettaglio che mi piace davvero molto è la illuminazione tutta led ovviamente che contraddistingue ambe due i pensili vi apro anche questo così vedete guardate quanto spazio arca non finisce di stupire perché non avendo il basculante offre in dotazione comunque la gamba tavolo telescopica quindi con la possibilità di essere abbassata e creare un letto diciamo da una piazza e mezza qua in dinette quindi molto comoda per l'emergenza comunque non sono solamente due più uno posti letto perché i gemelli posteriori possono essere uniti per creare un mega matrimoniale ma anche qua ricavare un ulteriore letto mi sono fatto una scaletta perché davvero gli accessori richiesti al cliente sono davvero molti vi farei vedere un dettaglio fiat molto bello che quello del full digital cluster quindi il cruscotto digitale il cliente ha richiesto di inserire anche la il controllo della pressione degli pneumatici come potete vedere in questo caso ci sta segnalando che ci sono delle pressioni differenti questo sistema si azzera durante il movimento quindi dopo tot chilometri rileva che le gomme hanno una corretta pressione perché ovviamente le abbiamo controllate e viene azzerato in automatico molto bello il discorso appunto del display totalmente digitale perché può essere comandato a nostro piacimento qui vediamo il mantenimento della carreggiata qui possiamo vedere tutti i dettagli della percorrenza e volendo modifichiamo anche la parte visiva del contachilometri che può essere parzialmente è digitale sia a livello numerico sia a livello di display informazioni sul veicolo ritorna come avviso che c'è la pressione che è sballata delle gomme e quindi modifichiamo tutta la strumentazione tramite i comandi a volante che sono di serie quest'anno sul veicolo interessante anche l'adozione a richiesta il cliente che è quella dell'autoradio doppio din fiat che è un apple carplay e android auto si accende da questo tasto la retrocamera non la vedete qua ma la vedete sul classico monitor a specchietto quindi davvero top come dotazione su questo quadro comandi troviamo anche questo tasto che di solito appunto non vediamo perché questo vi permette di disattivare il mantenimento in corsia del veicolo ovviamente traction plus e sp sono dotazioni standard su questo tipo di prodotto direi che inizia davvero a fare caldo quindi ci spogliamo appoggiamo la giacca qua e partiamo parte frontale anche senza basculante uguale identica alla versione con basculante quindi troviamo i pensili con anta e un ripiano già integrato una parte frontale stivabile anch'essa perché c'è questa spondina che permette al carico di non cadere maxi oblo apribile con oscurante e zanzariera dal basso quindi dotazione super assolutamente stesso discorso lato passeggero anche qui troviamo un bel pensile dalle capacità davvero ottime pensile nettamente più grande come dicevamo rispetto alle versioni cano basculante e più profondo ovviamente un dettaglio sempre richiesto del cliente è stato quello di avere in dotazione questa è una modifica che abbiamo applicato noi i braccetti su questa finestra perché come sapete questa è una finestra che esce da arca fissa perché se apriamo la porta rischiamo di andare a rottarla quindi il cliente ha voluto comunque adottare questi pistoni per aprirla ci permettono di aprirla parzialmente e così non va a toccare la porta semplicemente tirando si richiude ovviamente oscurante zanzariera anche se la finestra non fosse apribile sono in dotazione il tavolo è il classico tavolo che ha la possibilità di essere movimentato dove vogliamo noi una volta trovata posizione lo si blocca è un tavolo a libro quindi ruota su se stesso la gamba del tavolo diventa d'appoggio la sdoppiamo e abbiamo tutta questa superficie utilizzabile entrambi i sedili della cabina sono girevoli quindi anche quello del conducente si può ruotare parliamo di tecnica del veicolo a richiesta del diretto interessato cliente che l'ha comprato è stata quella di far montare dalla nostra officina una batteria litio di marca in questo caso noi trattiamo nds è il nuovo modello e la tempra da 120 ampere con un inverter da 1000 watt che è stato collegato a tutte le prese quindi è un inverter smart in che switch in automatico nel momento in cui viene collegato a 220 volt si disattiva quando la togliamo si reattiva in automatico con un comando remoto di accensione questo permette di avere tutte le prese sotto 220 volt o appunto dalla rete esterna o appunto dall'inverter quindi molto comodo intanto che smontato vi ricordo che qua così c'è la possibilità di sollevare questa spalletta per andare a creare il posto omologato perché qui parliamo comunque di un quattro posti omologati di veicolo ripristiniamo la dinette tappezzerie necopelle quindi molto facile da pulire bella comoda mio giudizio e passiamo sulla zona della centralina quindi questa è la classica centralina di comando delle utenze accendiamo la pompa dell'acqua l'interruttore generale la luce esterna quella di serie arca perché quella che vi ho acceso prima è comandata da questo tasto piccolo dettaglio a richiesta il cliente è stato quello di adottarlo nero in tinta con la centralina quindi davvero molto molto bello comando del vebasto come vedete l'ho acceso come vi dicevo ho impostato una temperatura di 23 gradi volendo posso aumentarne o diminuirne la potenza tramite questa rotella basta premere per confermare e anche modificare la potenza di emissione dell'aria quindi in questo caso sta andando con una sola velocità volendo la posso ampliare a due o a tre velocità che è il massimo per confermare premo sempre comando dell'antenna satellitare perché il cliente ha voluto anche l'adozione di un'antenna satellitare in questo caso una mecatronic con una tv smart da 22 pollici posizionata qua che sta perfettamente nell'ingombro della spalletta del mobile quindi questa basta premere questo pulsante si solleva punta in automatico il canale e il satellite perdonatemi e voi potete vedere tranquillamente la vostra televisione quello che vi dicevo prima comando cp plus del combi da qui facciamo funzionare sia il boiler sia riscaldamento più altre funzioni il fatto che il cliente abbia voluto un combi 6 mila watt a gas più elettrico vuol dire che abbiamo la possibilità di in questo caso andando su questa funzione selezionare il modo di funzionamento quindi abbiamo o solo gas oppure mix 1 vuol dire a gas più una resistenza elettrica mix 2 a gas più due resistenze elettriche oppure solamente in elettrico una resistenza oppure in elettrico a due resistenze le resistenze sono da 900 watt cada una nel momento in cui andiamo a fare funzionamento mix quindi sia gas sia le due resistenze elettriche arriviamo ad una potenza supplementare rispetto a quella standard dei combi 6.000 gas che è di 6.900 watt quindi è stata aumentata quest'anno molto interessante perché ovviamente questa è una resa supplementare a livello di potenza per scaldare il veicolo nella funzione mix naturalmente possiamo sfruttare sia l'elettrico che il gas e questo ci permette di avere un risparmio a livello di consumo del gas anche il boiler può funzionare in elettrico quindi totale delle due resistenze 900 900 fanno 1800 watt per riscaldare l'acqua anche se volete la parete d'ingresso integra la classica maniglia per ausilio a salita una sacca portogetti molto bella altra chicca di questo veicolo che non siamo abituati a vedere è questo qua il forno famoso vano che diciamo sempre nei video essere destinato volendo un forno in questo caso è stato ordinato da arca e installato direttamente da loro molto bello anche esteticamente con questa forma e colore nero che si abbina al frigorifero frigorifero ovviamente doppia porta funzionamento tutto automatico come potete vedere nonostante l'adozione del forno viene mantenuto lo spazio il pensile al di sopra del forno quindi davvero molto interessante ulteriore dotazione a richiesta del cliente è stata quella di avere sempre installato da arca un turbo vent nella zona cucina quindi questo è una ventola che permette di fare sia da aspirazione sia da ventilatore in modo tale da aspirare banalmente quando si cucina il vapore acqueo oppure muovere l'aria all'interno cucina sempre con il bellissimo materiale che viene utilizzato per creare il piano di arca che integra questo lavello che è scavato all'interno quindi un monoblocco molto bello con questi che sono due piccoli taglieri all'occorrenza predisposizione classica della macchinetta del caffè compresa due venti sempre sotto inverter come dicevamo prima tre fuochi classici con piezo elettrico finestra apribile con scorante zanzariera e la sua cornice intelligente l'adozione di questo piccolo vetro che preserva la spalletta che vediamo qua cassettoni molto ampi in questo caso troviamo le istruzioni della batteria più quelle fornite da arca un porta cassetto un porta posate perdonatemi vano tecnico con il classico cassettino molto comodo piccolo ma comodo da questa parte invece troviamo un cassettone estraibile davvero molto e un cassetto più piccolo rispetto al precedente questo è l'altro vano di cui parlavo all'inizio quindi sollevando l'apertura troviamo un doppio fondo con una vaschetta plastica in questo caso e si può intravedere da quella parte il doppio pavimento sfruttabile dall'esterno del veicolo zona posteriore classica quindi porta del bagno che fa da separazione con la zona giorno doccia dalle dimensioni davvero molto molto generose retroilluminazione blu faretti touch tutto quanto led bellissimo non smetterò mai di dirlo questo doccino che davvero di design domestico porte rigide quindi sicuramente qua non vi esce l'acqua perché le porte vanno al di sotto di questo bordo c'è una doppia piretta di scarico e altra cosa molto intelligente se vogliamo separare la zona notte possiamo utilizzando questa porta scorrevole il bagno è quello classico quindi troviamo vc con lo specchio e il lavandino il lavandino ha lo stesso materiale della cucina finestra apribile ovviamente oblò 40x40 come lo troviamo nella zona centrale del corridoio come lo troviamo in doccia sopra la doccia zona posteriore le versioni glg identificano appunto i letti gemelli quindi sono due letti separati che volendo possono essere uniti con questo doppio materasso quindi volendo possiamo lasciarne uno questo più lungo nella parte centrale che unisce due materassi o questo qua che viene posizionato nella parte anteriore ribaltando questo legno sopra il quale sono seduto attualmente per creare appunto volendo un letto a tre posti addirittura perché è davvero molto molto generoso come dimensioni impianto stereo anche nella parte posteriore di serie sul veicolo doppi pensili lateralmente uno destra uno sinistra più tutta la fila di pensili posteriori molto molto bello molto molto capiente bella la testata del letto perché fatto da questo doppio materiale i faretti sono dei faretti orientabili tutto led con già le prese usb quindi qua sicuramente punti di ricarica non mancano in nessun modo armadiatura dei letti gemelli vi ricordo che è sempre al di sotto dei letti stessi qua così troviamo il primo armadio dalla parte opposta troviamo il secondo armadio che volendo è accessibile anche sollevando la rete quindi davvero di spazio ne abbiamo a volontà anche qui troviamo un ulteriore anta di stivaggio con quest'altro bordo sfruttabile io inizio avere caldo perché mix combi e vebasto che funzionano anche se li ho impostati a adesso vebasto memoria 19 gradi il combi a 22 se non ricordo male fa davvero caldo quindi sicuramente un veicolo adatto all'invernale anche per la coibentazione perché vi ricordo che arca utilizza lo styrofoam x energy che è un materiale ulteriormente coibentante rispetto al vecchio styrofoam che dire cassetto anche qua apribile qua vediamo la derivazione di una delle bocchette che abbiamo messo per il vebasto da 4.000 watt quindi davvero è distribuito uniformemente tutto il calore marcello monica manca il condizionatore quindi magari provatelo così dopodiché possiamo sempre intervenire nuovamente per installarlo al posto di questo bloc quindi direi che la dotazione che avete scelto del veicolo è davvero stra full dimenticavo altro piccolo particolare qua così vediamo l'ispezione per quanto riguarda i serbatoi i clienti hanno voluto anche l'adozione di un vaso di espansione quindi vaso di espansione che permette alla pompa di respirare meglio cioè non si inghiozza durante il suo funzionamento se ho dimenticato qualcosa scrivetemelo nei commenti proprio voi proprietari del veicolo diversamente iscrivetevi al canale vi aspettiamo per qualunque info vogliate il mio telefono è 335 17 68 460 ragazzi era uno scherzo perché talmente tanti gli accessori richiesti dei clienti che mi sono dimenticato il garage quindi come vi dicevo safe door supplementare di sicurezza e ta na 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 porta bici due posti estraibile molto comodo basta azionare questa leva tirandola questo fuoriesce quindi carichiamo le nostre bici comodamente poi azionando l'altra leva lo sblocchiamo torna in sede e si blocca sacca porta oggetti quindi molto comodo anche qua l'ha voluta fissare su questo sportellone contatti dell'antifurto antifurto perimetrale volumetrico quindi vi permette di rimanere all'interno del veicolo con antifurto inserito per tutta la vostra sicurezza supplementare garage illuminato e a richiesta sempre del cliente l'adunzione di queste barre della fiamma regolabili perché questi occhielli sono regolabili dove volete voi per poter fissare ad esempio le sedie il tavolo o qualunque cosa vogliate posizionare all'interno del garage e non avere in giro durante il viaggio perché qua basta legarlo con delle cinghie e siete davvero a cavallo attacco esterno dell'acqua di serie sia acqua calda che acqua fredda qui nella dotazione davvero top arca è il numero uno siamo concessionari per tutta la lombardia del brand arca siamo i maggiori rivenditori del brand arca per tutta italia quindi se vi piace il prodotto contattateci e davvero adesso è tutto ci vediamo prossimo video ciao